Daniele, ci cala, grazie di essere con noi Daniele. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Giovane ragazzo che abbiamo già conosciuto al tempo di Fridays for Future, è già stato nostro ospite, lui è candidato per la lista Europa Verde, lista Sansa e linea condivisa che appoggia il candidato sindaco Ariel Dell'Ostrologo. Intanto, subito, perché hai scelto di candidarsi, la decisione di candidarsi, tu così giovane puoi anche dirci quanti anni hai, perché probabilmente fa... Sì, 24. 24, quindi è soltanto un vantaggio per te, perché questa passione politica e perché la candidatura? Sì, allora, la passione politica in realtà nasce già negli anni della scuola, ecco, non partitica però nelle associazioni, nel volontariato, eccetera. Poi nell'attivismo ambientale, sicuramente nel movimento che hai citato prima, mi sono riconosciuto se non da subito e quindi in realtà politica l'ho già fatta perché incontravamo istituzioni, facevamo pressione da fuori. Poi durante proprio un'intervista che feci qualche anno fa mi era stato chiesto come mai avessi deciso di impegnarmi nell'associazione, nei movimenti, anziché in un partito. E allora lì ho riflettuto sul fatto che negli anni della Prima Repubblica era quasi considerato normale impegnarsi politicamente in un partito, però. Adesso non è più così, però penso che sia importante anche che ci sia qualcuno da questa parte, diciamo, perché se facciamo pressione da fuori ma non abbiamo alleati dentro le istituzioni, diventa più difficile. Quindi ho cercato, ho deciso, quando mi è arrivata la proposta da iscritto a Europa Verde, ma anche da Selina Candia, consigliera regionale, ho deciso di accettarla e di mettermi in gioco. Peraltro, come è giusto che faccia un ragazzo giovane, sei impegnato in prima persona, ti ho visto personalmente da lì che ci siamo messi d'accordo per l'intervista a diffondere i tuoi stessi santini, i volantini con il tuo nome, il tuo programma. Quindi insomma non hai paura di sporcarti le mani? Forse una certa politica ha più paura di sporcarsi le mani in questo momento? Sicuramente sì. Abbiamo avuto dei leader nella storia recente italiana che avevano quasi paura, sembrava di parlare con le persone, di incontrarle, eccetera, forse perché erano consapevoli di aver amministrato male, aver governato male. Sicuramente questa parte della campagna elettorale, a contatto con le persone, è più faticosa, perché sto passando giornate intere a dedicare la campagna elettorale, diventa quasi un lavoro vero e proprio, però è anche bello perché hai un confronto arricchente con le persone, ascolti nuovi punti di vista, che poi è importante tenere conto anche, ti rendi conto che puoi integrarli a quel che è il tuo programma. Certo, questo è molto importante, poi comunque si conoscono persone, ci si fa conoscere, la campagna elettorale si fa certamente anche così, a meno di non avere molto da investire, con grande cartellonistica, però insomma non è detto che invece l'approccio persona per persona non sia l'approccio più intelligente. Entriamo un po' nei rivoli del programma. Uno dei temi che sono stati molto forti all'interno di questa campagna elettorale è quello della mobilità e soprattutto del progetto di allungare la metropolitana attraverso una parte che sarà sopraelevata, proposto dal Comune di Genova. Voi siete contrari o favorevoli? Noi siamo contrari al progetto di Skymetro, siamo favorevoli a una mobilità pubblica, non siamo quelli dei, no, ecco, non voglio partire dicendo contrari in quel senso, se ne siamo favorevoli a un potenziamento della mobilità pubblica, che sia appetibile, nel senso che riesca veramente a spostare traffico privato verso quello pubblico, che è comunque una delle cose più importanti. È uscito recentemente un rapporto che ci dice che a Genova c'è una delle aree più inquinate delle città italiane, pur essendo sul mare. E questo è dovuto sicuramente al porto, ma anche al traffico cittadino, autostradale, che sappiamo che ci imbottiglia nelle code, eccetera. Uno dei moti che abbiamo usato è sempre stato non sei nel traffico, sei tu il traffico. Però noi abbiamo delle soluzioni per questo, ok? Cioè, vuol dire, noi siamo per il tram, lo so che se ne parla da tanti anni, a Genova c'era, poi si è deciso di favorire il trasporto privato, privato, però noi non pensiamo che sia il futuro. Quindi è possibile ancora farlo, in realtà, perché negli ultimi anni abbiamo visto dei cambiamenti notevoli nei progetti. Lo stesso Bucci, quando in campagna elettorale cinque anni fa, parlava di voler fare il tram, poi ha ripiegato sullo Skymetro, forse non per la paura dei cantieri, ma anche per lo Skymetro ci vogliono i cantieri. E noi pensiamo che fare cantieri programmati anche solo per tre anni, cinque anni, e avere dei benefici, però, per i prossimi cinquant'anni ne valga assolutamente la pena, perché sappiamo, abbiamo visto in altre città, basta copiare quello che fanno in Svizzera, in altri paesi del nord Europa, ma anche a Milano, eccetera. Per cui il tram riesce a riqualificare la città, fa aumentare il valore degli immobili, di dove passa, e soprattutto il tram passerebbe sotto caso. Con i soldi che arrivano a Genova, 900 milioni, che l'amministrazione attuale vorrebbe usare per un nuovo Filobus e per lo Skymetro, si potrebbero realizzare 30 chilometri di tramvia, vuol dire arrivare da Prato a San Piero d'Arena, che sono circa 17 chilometri, e poi andare a potenziare, quindi arrivare anche alla Foce, verso Quarto, eccetera. Quindi questi soldi non si vedranno forse mai più o per tantissimi decenni. Quindi il vostro giudizio è non sprechiamoli con un progetto... Ora, abbiamo fatto tanti dibattiti su questi due tipi di trasporto, io ovviamente mi sono fatto la mia idea, la metropolitana ha la possibilità di portare più passeggeri e viaggia più veloce, il tram però è molto più capillare, perché ovviamente può arrivare casa per casa, a differenza della metropolitana, che invece ha un certo numero di fermate e non moltissime. Questa è la grande differenza, i detrattori del progetto del tram dicono, al di là di ogni altra considerazione, il tram passa sulla sede stradale, quindi per esempio in Valbisagno va a togliere una corsia al traffico automobilistico. Non siete preoccupati di questo? In realtà no, perché poi l'obiettivo è quello, cioè il potenziale trasporto pubblico deve renderlo conveniente, capillare, come dicevi giustamente, tu e quindi riuscire a spostare e togliere traffico privato. Quindi in realtà non siamo preoccupati da questo, perché quando tu hai un tram che ti porta velocemente in centro, ti rendi conto che non devi stressarti per i parcheggi, eccetera, quindi è conveniente per te in primis usarlo, e quindi per quello no. E poi c'è da dire che, dicevi la metropolitana più veloce, nel senso che se conti anche il tempo di spostamento per arrivare alla fermata, è tutto da dimostrare, e lì sarebbe il progetto sulla sponda sinistra del Bisagno, dove ci sono meno residenze, e quindi sarebbe meno efficace anche per quello. Parliamo di rifiuti, gestione del ciclo di rifiuti, qual è la vostra proposta, cosa pensate di fare per migliorare i dati anche della differenziata su Genova, che immagino che un partito, come il vostro, che tra le varie liste che lo sostengono, ha anche la, diciamo, questione verde fondamentale, sia per voi un punto importante. Assolutamente sì, pensiamo che sia uno di quelli cui purtroppo l'attuale amministrazione abbia fallito, perché una promessa dei Bucci in campagna elettorale di 5 anni fa era di portare il 70% come percentuale di raccolta differenziata a Genova. Siamo ancora, nell'ultimo anno, nel 2020, a 35%. Noi abbiamo delle soluzioni, proponiamo l'introduzione di un porta a porta che si è visto in altre città, che è quello che permette veramente di fare la differenza, ma non solo, anche una tarifazione puntuale, significa che tu, dell'Atari ovviamente, per cui tu paghi l'Atari in base a quanto indifferenziato, principalmente indifferenziato, produci, e quindi anche un incentivo a differenziare meglio e a produrre meno rifiuti. Quindi quei cassonetti a peso, cose del genere? Esatto, esatto. Quindi un investimento però importante per arrivare... Esatto, un investimento importante, ovviamente poi è giusto far politica, far promesse dicendo anche dove, come lo faresti. Ad esempio una cosa importante sarebbe meno sperpero di denari pubblici, ad esempio i 200 mila euro usati per comprare i 27 mila biglietti invenduti a Euroflora, acquistati da AMIU e AMT, quindi due aziende municipalizzate pagate dai cittadini genovesi, sarebbe già stato un risparmio da utilizzare in quel frangente lì, ma non solo quello, questo è un esempio perché è recente, però un utilizzo più razionale, meno propagandistico direi, dei fondi pubblici potrebbe essere già una via. Poi dalla riforma costituzionale 2001, comunque le enti locali hanno anche potere di entrata e di uscita, quindi possono anche eventualmente utilizzare addizionali comunali IRPEF se fossi necessari, ma penso che prima di tutto sarebbe giusto usare i soldi in maniera più adeguata. Un imposto, una tassa di scopo non la vedreste così assurda, potrebbe essere anche concepibile per arrivare a quello? Non credo che sia necessario, poi quando uno è in consiglio comunale ha i dati, lo studia, però non credo. In realtà poi quello sarebbe un vantaggio, perché l'attaria oggi a Genova è una di quelle più alte in Italia, che si fa, quindi non voglio dire che si dovrebbero, i cittadini genovesi, i comuni dovrebbero pagare di più, anzi parlavo proprio, parlando con le persone, con un'impresa che vende abiti usati in via della Maddalena, mi diceva io pago un'attaria altissima, perché sono equiparato come codice Ateco a un'azienda di fast fashion, come H&M quasi, e quindi anche quello sarebbe da rivedere, quindi un'attaria più equa sarebbe già un buon cosa. Quindi una riforma anche dell'attaria e della sua applicazione. Per i giovani, visto che stiamo parlando con un giovane, due dettagli, quello legato magari alla vita sociale, che è sicuramente uno dei temi caldi, e un giovane non è che si può dire che ci sia solo il lavoro o lo studio, c'è anche il divertimento, e poi qualcosa anche su come fare a trattenerli in città, i ragazzi. Sì, allora, sicuramente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Innanzitutto l'ho vissuto sulla mia vita, oltre a quello della socialità, partendo dal lavoro, per trattenere i giovani ci vuole una città più competitiva, più attrattiva, e quindi noi proponiamo un accordo tra il comune, Unige e le imprese, che fornisca delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, ma che non siano stage che sono stati proposti a me, ai miei colleghi di studio, pagati poco o niente, o anche senza questo eccessivo sfruttamento del lavoro. Per quanto riguarda il divertimento, noi pensiamo che sia necessario utilizzare degli spazi che a Genova ci sono, che sono inutilizzati, per avere un compromesso tra l'esigenza di socialità, che è molto importante, non solo per i giovani, e il rispetto degli abitanti del centro storico, ad esempio. Ci sono delle proposte anche legate al cibo nel vostro programma, in che senso? Questa è più un'idea che è venuta personalmente a me, quindi non voglio attribuire, però in parte anche nel nostro programma, nel senso che la politica del cibo, c'è una rete che si chiama Ricibo a Genova, che cerca di aprire un tavolo nel comune che metta insieme supermercati, ristorazione, e tutte quelle strutture pubbliche di volontariato che si occupano delle persone in difficoltà, perché a Genova non solo c'è un enorme spreco di cibo, specialmente della grande distribuzione, e quindi coordinare questi sforzi affinché quel cibo non venga sprecato. E poi il comune di Genova ha anche il potere di influenzare i menù nelle mense comunali, comunque Genova è una città con più di mezzo milione di abitanti, più di 600 mila, e quindi c'è la possibilità di prevedere dei menù che siano più sostenibili dal punto di vista ambientale e per rispetto degli animali, nel senso menù più possibili vegetariani o vegani, più a base di legumi, questo è più chilometro zero, quindi che vengono anche da produttori del territorio come forma di sostegno, quindi noi non siamo per l'apertura di nuovi supermercati, centri commerciali, perché purtroppo uccidono la valorizzazione del locale. Va bene, per chiudere, vediamo il vostro simbolo, sarà difficile, si chiuda benissimo, te lo promesso, ora lo facciamo, perché avete un simbolo nuovo in realtà. Esatto, un simbolo nuovo, quindi spero che diretti... Alzalo un pochino, alzalo un pochino, e quindi che unisce queste tre liste... Purtroppo Europa Verde è verde e da noi non funziona, ma non perché, non è una questione politica, è proprio una questione cromatica, perché siamo in un green, quindi va bene, comunque si è viste. Europa Verde, lista sans e linea condivisa, sono le tre liste che si sono unite assieme per provare a ottenere dei buoni risultati e portare il maggior numero possibile di candidati all'interno della prossima Sala Rossa. Bocca al lupo, Daniele Cicala. Viva il lupo, grazie. Bocca al lupo a te, ovviamente ai tuoi colleghi candidati, si vota il 12 giugno dalle 7 alle 23.